Ciao cuccioline! Ciao! Come state? Tutto bene? Siete pronti per questa intervista doppia? Guardate come dico sì! Allora Anastasia, adesso ti devi concentrare perché questa intervista doppia non è una semplice intervista doppia ma sarà un'intervista doppia scolastica e quindi devi essere super concentrata esattamente come lo sei quando sei in classe sei concentra... esatto immaginavo! Quindi siete pronte? Fate un bel respiro! Ok iniziamo! Nome? Vanessa Anastasia Cognome? Randazio Età? 10 7 Che classe fai? 3 2 2 3 Hai mai preso una nota e l'hai nascosta a mamma o papà? Sì ma era un terzo No Però la no Qual è la tua materia preferita? Scienze e testi Tutte No non è vero Scienze No Lettura La materia che ti piace di meno? Matematica Matematica No Tecnologia Hai mai firmato un voto al posto di un genitore? No No Un compagno maschile che preferisci? Non posso dire no Perché? Il tuo migliore amico a scuola in classe? Daniel Nicoletto La tua compagna preferita? Oddio Oddio Anche più di una se ne avete più di una Ok No ma devi facciare l'altro Allora ne dico due però Due Giada e Gaia Gaia e Sofia e Viola e Giulia E Amelia Ok No, io no, solo a media, perché adesso ci sono così. Ok. Hai mai rubato la merenda a un compagno? No. Però c'è la merenda che ce li scambiamo. No, però non li scambio. Ti sei mai addormentata in classe? Sì. Una volta, quando praticamente la maestra... la mia maestra, ce l'ho messa in una musica rilassante e io... quella che mi sono addormentata. E poi l'altra cosa mi riguarda, forse... no, però mi sono addormentata. Io non mi stavo una volta per addormentare, perché è il maestro di filosofia. C'è altro. Io in religione, no, tutti i nostri compagni ci guardiamo proprio... ci siamo rotti, perché lei... Basta, parla... Praticamente parla e basta, e noi così. Eh sì, diventa un po' noiosa, una lezione. Invece la faccio... Queste due maestri stanno parlando io. Io così, mi metto a come aprivo gli occhi. Ti svegliavi all'improvviso? Eh, non è facile stare otto ore sedute su un banco. Vi capisco. Hai fidanzato? No. Sì. Hai mai dato un bacino ad un tuo compagno di classe? No. Sì, in prima. In prima? Dove? Bene. No. Quasi qua. Qua. Anastasia, ti chiudo in collegio? Così. Così, qualcosa mi dice che tu finirai in collegio. Vanessa, si può dare un bacio a un compagno anche solo per fargli gli auguri di compleanno? No. Aguri. Aguri, Matteo. Hai mai pianto a scuola? Sì. 600 volte. Così sono i secondi. Io sì. Perché, Vanessa? Io spianto quando la nostra messa era l'aria. E dove è andata? Io sì. Ok. Io mi ricordo solo perché? Perché ero mai solo. Anastasia e... Anastasia e credo Tommaso. Tommaso di venire a farli con fotococchi. E io pianto perché c'era anche il c***o. E io non volevo essere in tre. Eravamo in tre alla fine con fotococchi. Ma Anastasia. Guarda, guarda. Cosa c'è sul tuo banco? Allora. In classe non sono messo in disciplina e in matematica ho in tre. Il quaderno e il libro e la stuccia. Allora, la stuccia, il quaderno, il libro, un altro quaderno e un altro libro. E un altro stuccio. Ok. Quanti studenti ci sono nella tua classe? Sono 25. Cioè, vedo 16. Tanti, eh. Hai un soprannome che ti hanno dato i tuoi compagni? Vani, 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 Amo, Peso. Mi chiamo solo Vani. Ok. Qual è il tuo ricordo più bello che è avvenuto in classe? Allora, a un certo punto era la merenda, no? Siamo iniziando la canzone e a un certo punto i miei compagni hanno iniziato a cantare una canzone. E poi, a un secondo, quando praticamente era in quarta, in terza, e c'era la bidella in classe perché la maestra è andata a fare una commissione e quindi era tutto buio perché c'erano i temporali, le luci erano accese, no? Fuori il pigmento era buio. A un certo punto è arrivato sto fulmine, si sono spiegati tutti e tutti che abbiamo l'alto dalla paura e i maschi che ridevano. Quando a scuola ho disegnato con Giulia un foglio, un bello, perché a moglie, con un guadino, un pochino, un altro pochino. Non è vero. Quando io e Giulia, la mia compagna, mia moglie, abbiamo fatto una torta su un foglio e abbiamo disegnato la torta su un foglio perché era il compleanno di manessa e ho scritto tanti auguri alla spagna. Ma lo siete a posto, proprio. Una volta. No, tanti auguri, manessa. Tanti auguri, con il cioccolato, con il nove che passevano per anni. Ok. Praticamente era, cioè, c'era il covid, no? E quindi sai quando mi facevamo le videochiamate? No. Praticamente le mie compagnie sono suonate alla serie. Tutti che lo guardavamo li davamo. Fatti così. Tutto come andato dietro. Ok, l'intervista doppia scolastica è finita, ma non termina qua. Adesso invece facciamo quella personale. Allora, qual è la tua data di nascita? 11 ottobre 2013. Allora, 12 novembre 2016. Qual è il tuo cibo preferito? Lo sanno tutti la lasagna. Anastasia, lo sanno tutti qual è il tuo cibo preferito. Strane tu. Qual è? La Nutella. No. La crepa alla Nutella. No, ma quello è dolce. E che c'entra? Un cibo, eh. Che cosa cambieresti di te? Allora, di me? Cambierei... Vai. Il naso. Lo voglio... Anzi... Quello... No, scherzo. Lo voglio... Lo voglio un po' così e un po' più... I capelli. Mi vorrei... Mi vorrei poco. Qual è il tuo segno zodiacale? Bilancia ascendente sancerario. Scherifioni. Ascendente... Acquario. Racconta qualcosa che hai tenuto come segreto. Che, l'altra sera, io e Anastasia, mentre ti dice, ci facevamo le foto. Allo specchio. È vero. Eh. Io invece, quando una volta, io e Valesta, alla sera, e lei stava, facciavamo, no, facciavamo un video, ma tu stavi dormito, eh. Lei ha preso il mio telefono, l'ha preso prima lo suo, ha fatto un video e l'ha messo su Instagram. Poi ha preso, sì, con la volta, allo specchio che ha acceso la luce. Sì, e poi lei si è fatto i video e diceva, ragazzi, voglio fare un video. C'è, inizia. Siamo qua. Non è vero che poi anche lei mi ha fatto il video con il mio telefono, perché io non mi faccio male. Il tuo sogno nel cassetto. Stare per sempre con la mia migliore amica. E avere una villa. Bella con la piscina. Fare viaggi insieme e stare insieme nella casa. E vivere sempre insieme. Avere una fattoria con te. Me l'ho detto sei anni fa. Amore. Non te lo ricordi? Sì, che me lo ricordo. Mi hai elencato tutti gli animali che avremo in questa fattoria. Qual è la tua bibita preferita? Questa te, ma di voi. Un bucciana, la so co co co. Non è vera, non l'avevo da sei anni. Sei felice. Oggi. Che cosa porteresti con te su un'isola deserta? Tre cose. Allora, il telefono. I trucchi. Una mia migliore amica. 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 No, dai, no, no. Una mia migliore amica. I trucchi per essere gialla. No, perché c'è l'isola? No, non è vero. Ancora. Allora, allora. Scusa. Allora, il telefono per farmi mille foto, per mandartela a te. Poi. A me non mi portaresti? Lo senti? No. Punto. Immaginavo. Poi, portarmi Gasper. Così, poi scappa via. Non è vero. Finalmente libero. Lo tengo in mano, così faccio la foto che non c'è. Allora, ho già detto due cose. E la terza, portarmi, portarmi Grey e vado. No, portarmi Vanessa. E vado, dai, che bello, no? Certo. Bello sì. Mi lancia giù. Diciamo chi è Grey. Chi è Grey? Il mio friccetto. Il nostro. E in realtà il mio friccetto. Perché è mortolina. Dimmi tre caratteristiche di tua sorella che ti piacciono. Allora. Chi è simpatica? Allora, chi è simpatica? Chi ride? Allora, chi è simpatica? Solae? E poi, chi è? Bellina. Ok, poi. Lei mi fa ridere quando sono triste. Diciamo così mai. Allora. Mi fa ridere quando sono triste. Poi, è simpatica? Mi fa toccare i gasper. Quando sono felice. Tre cose che odi di tua sorella. Allora. Mi rubi tu. Quando magari sto usando il suo telefono e lo ruba di mano. E poi mi picchia. Ti ponci. Lei finisce a piangere. Sempre. Poi, mi fatti fare gasper. Non ne vedi. Mai. Ma sono da sopra. E poi? E poi? Non mi presto il suo telefono. Quando il mio è su. E scalco. Qual è il tuo colore preferito? Rosa! Blu. Ok, ragazze. L'intervista doppia questa volta è veramente finita. Adesso dite a turno la prima cosa che vi viene in mente. Ti voglio vedere. E un abbraccio. Cucciolini, cucciolini. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. E lasciate un bel like in questo video. Ci vediamo in cammino a 16. Ciao. Cucciolini, cucciolini, oio. Iscrivetevi al canale, oio. Attivate la campione, oio. Riescatevi a leggere il canale, oio. Imparate il corso, oio. Siaio, oio. E' arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Pappo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù. Mamma...